Ciao a tutti, sono ieri a presentarvi questo libro, presento su Amazon, in versione digitale, con l'anno d'autori e luci sparse, ecco qua, e tra 16 pagine, ecco qua, e 16 autori, eccoli, tra cui ci sono io, e 130 pagine di poesie, 9 ore 99 su Amazon, poi c'è la versione cartaceo scontato, che invece di 23 euro, ecco qua, posso dare la felice, io me lo concedo a 20 euro, per farmi conoscere, per divulgarlo, insomma, mi dice, in questi tempi, farsi dei follower, spedizione a domicilio, mandando una vostra richiesta alla mia mail, leggere la descrizione nei dettagli, una ottima idea per regalarvi e regalarvi un mondo di poesia. Con questo conclude il video, e come al solito concludo, farei bravi. Ciao!